Con Dario Franceschini al seggio di Piazza del Popolo, sembrano un successo le primarie, almeno delle prime stime? Sono comunque un successo di partecipazione, in un momento in cui la gente ha tanta diffidenza e ostilità nei confronti della politica, anche con delle buone ragioni, vedere tanta gente in fila, vedere tanti volontari è una prova di buona politica e la risposta all'antipolitica non è rinunciare alla politica, la risposta è la buona politica. Sembra che siano stati superati anche un po' le criticità, la registrazione, sembra che la macchina abbia tenuto dal punto di vista organizzativo. Ha fatto parte delle polemiche fisiologiche della campagna elettorale, in realtà mi pare un'organizzazione formidabile, complessa, ma del resto registrare era giusto, bisogna che chi viene a scegliere il candidato del centrosinistra dichiari di essere un elettore di centrosinistra. Io per esempio garantisco che non andrò a votare a quelli di centrodestra. Senta, comunque aver fatto le primarie è stato già un successo per il Partito Democratico, questi sondaggi, quindi diciamo chi le temeva in questo senso si è dovuto ricredere. Beh, ma non è soltanto un problema di aver avuto ragione o di successo, è davvero un modo straordinario di scegliere il candidato premio del centrosinistra, che il sistema più moderno, più democratico, più partecipato ci può essere di questo, un confronto civile e alla fine c'è un vincitore. Io spero naturalmente che Bersani vinca oggi, se no ci sarà il ballottaggio. Comunque una grande prova per la democrazia italiana, non solo per il PD o per il centrosinistra.